Perfetto, oh perfetto, ok perfetto, allora buon sabato a tutti, siamo qua a farle white di still live, di nuovo, siamo con la link qua, e perfetto, mi smuto su discord, ok mi senti? Ci siamo, perfetto, ci siamo, e spostiamoci qualcuno, decidi tu che spostarsi, sì ci spostiamo questo qua, Aldrich, ok perfetto, Aldrich, mit buongiorno buongiorno, allora, ciao, ciao, mi senti? Sì, ciao, ciao, stiamo facendo white di still live, ti dà problemi? No, non mi sento, ok perfetto, bene iniziamo, va bene, sì sì, parci un po' del tuo background, di cosa vuoi fare nel server, allora, in realtà io vorrei portare un po' l'ambito criminale, ok, 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 un po' come è stato scritto nel background, comunque mio padre è sempre stato mezzo alla strada, è nato, è nato e cresciuto nel ghetto, e mia madre è sempre stata una che comunque ha fatto poche cose del buono, e solo che a vent'anni ho conosciuto gente che mi ha fatto entrare nella gang, perché purtroppo mio padre non voleva, e sono riuscito ad entrare nella gang, e praticamente un po' di anni dopo sono stato arrestato, quando ho incirca una trentina d'anni di carcere, e sono uscito, e sono tornato nel ghetto, giustamente, a Natale, e solo che comunque le cose non erano più vecchie, la gente era diversa, e tutto qua, ok, va bene, parliamo dei miei definizioni di RDM e VTM, ok, allora RDM è uccidere persone senza motivo valido in RP, mentre VTM è uccidere persone con un veicolo senza motivo valido in RP, ok, perché con un motivo valido si possono uccidere persone con un veicolo? no, 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 però comunque è giusto, è comunque senza uccidere la persona con un veicolo, investendo le dico, ah, ok, cioè io per me sa che gli errori non te li dico subito, cioè, quindi io ti dirò ok, andiamo avanti, quando hai dato una risposta, che proprio a meno che non si è esageratamente sbagliata, andrò avanti, e poi massimo alla fine ti spieghiamo gli errori che hai fatto, se ci ricordiamo tutti, ecco, va bene, metagame, prendere informazioni al di fuori dell'RP o anche, c'è anche il metagame in RP, il metagame in IC cosa? è riconoscere persone, per esempio tramite la maschera, oh crazy, ma buongiorno eh, dal vestito, mentre ad esempio metagame OC, non so, tipo parla su Discord, quindi per esempio me stanno arrabbite dal civico e vela o se no tramite una live, non ti fai mai vivo crazy, come va? mh, lo SISDENIPER fa parte del metagame? eh, all'incirca, perché comunque sempre, prendi sempre informazione di fuori, nel senso, io so che, come ti posso dire, dalla live vedo che loro stanno là al campo droga, eh, la, magari, non so, è una mia gang rivale, una mafia rivale, vedo che sta all'interno del campo droga, io con la mia mafia dico, vabbè stanno là, andiamo e li assaltiamo ok e dai, fa pure una domanda a tutta l'IC tutto a posto, grazie crazy, dai, cosa fai ora? giochi, cosa giochi, giochi, fai altro, hai smesso di giocare? allora raccontami un po' che cos'è il car kill? VIT, raccontami un po' da sesso impero, sto sesso impero da agosto 2020 la lega con il veicolo, bloccandolo, senza farlo muovere ok mh cosa sono le zone arancioni? sono le, sono delle, dei territori, delle, che vengono assegnati dal cartello e dove all'interno ci stanno ovviamente dei, dei business, eh, dove vengono prodotti degli additivi per le droghe e, dove possono essere assaltati, eh, magari due volte al giorno, eh, ogni tre giorni e, solo che questa qua, più che essere un ghetto, questo qua è un quartiere, che c'è differenza comunque tra quartiere e ghetti ok e, eh, le fazioni neutrali? eh, sono, eh, per esempio i medici e, mh, l'armeria e il concessionario che significa fazioni neutrale? eh, che non, che mentre sono in servizio beh, se fai un salto su impero, voglio sapere che, dai, farà più piacere per contarci punti, no ok, se vuoi un giorno parlare un po' così su discord, se ci sei, volentieri, dai ehm oddio, dipende, comunque se, no, 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 in teoria no, no, non si possono rifiutare di vendere ma il concessionario fa parte delle fazioni neutrali? si in che occasione? eh, che senso, in che occasione? in che occasione il concessionario fa parte delle fazioni neutrali? eh, mentre... succedono le azioni all'interno del... del perimetro del concessionario? mmm... no? no perchè il concessionario in che modo è neutrale, scusi? eh, perchè... lui giustamente sta a vendere... e macchine dentro... dentro... dentro cosa, dentro il concessionario o... non è che se due se minano, lui si mette là e... si metta a meno a quell'altro? no, in realtà è una moda diversa, perchè chi ha... che altra fazione? che altra fazione fa parte delle... delle... delle fazioni neutrali, ecco? ehm... oltre a me liceo concessionario, che ti ho detto ora, quale altra fazione fa parte... delle fazioni neutrali? mmm... vabbè, io te l'ho detto, i medici, armeria e concessionario... ok, l'armeria è detta... scusi, non l'avevo sentito prima... l'armeria è anche in questo caso, come mai l'armeria è neutrale? eh, perchè... stesso motivo del concessionario, mi fai conto? sono sempre sullo stesso motivo, non è che se succede qualcosa dentro, li si può mettere in mezzo, li divide e... e se c'è bisogno li allontana? no, allora, il concessionario, l'armeria è stato neutrali per un semplice motivo, perchè sono fazioni essenziali per il server, non possono schierarsi, quando sono in servizio, non possono schierarsi da nessuna parte, perchè se il concessionario dovesse dire, no, a te non ti vedo più auto, perchè mi hai fatto quel trotto lì, perchè si schierà da una parte, non può farlo, perchè è una fazione essenziale, perchè se il concessionario ti blocca la vendita a te... anche se comunque... ti blocca l'armeria, perchè non è che ci sta la concorrenza, come magari nel real, anche l'armeria ce ne sta solo una, non è che ci sta una concorrenza dell'armeria, un'altra armeria che ti può vendere le armi, quindi di conseguenza è per questo motivo per cui i concessionari dell'armeria non possono, appunto, schierarsi da nessuna parte, perchè sono obbligati in servizio a trattare tutti nello stesso modo. Quindi è giusto essenzialmente se non stanno lì da dentro... No, non è giusto perchè non è che tu stai di trattare l'armeria, c'è anche chi sono, no, chiama la polizia piuttosto, però, come ci sai, non può schiarsi, cioè non può, appunto, avere scherzi con nessuno nel momento in cui sta nel servizio, non può avere, fare, mettersi di parte, insomma, non può, non può far parte di qualcuno, di una parte, ecco. Ok. Altra domanda? Wolfi, tu qualche domanda? Oh no. Wolfi e Robi? No, no, per caricare, no, no. Allora, fai a pensare, nelle azioni Freerum, quanti criminali e quanti poliziotti? 10 criminali e 14 poliziotti. Che armi possono utilizzare? Solo pistole. Quante fazioni illegali possono esserci in un'azione Freerum? Cazzo per il follow, Elia. Oh, fallito. Quindi... Non ho detto alleate. Ok. Quindi... Se possono fare tipo... Quante fazioni illegali possono esserci in un'azione Freerum? In teoria... Una sola. No, si scherza, si scherza. Si spara. Ti voglio bene. E basta, quindi due fazioni criminali e non possono spararti. Vabbè, ok, sì, quello sì, giustamente sì. Però io, che ne so, io ci pensavo, dicevi, per esempio, due fazioni criminali contro la polizia, quello no. Però due fazioni contro... Voi ho fatto una domanda proprio lineare. Quante fazioni illegali possono esserci in un'azione Freerum? Due. Due. Fazione contro fazioni. La polizia è lotabile? No, solo... Alimento del campo di roda. No, Elia. Fammi nick, grazie per il follow, benvenuto, grazie per il follow. Elia, non si dicono queste cose. Dai, ai criminali. Eh, alla polizia. Ok. Ehm... Devo chiedere... Ok, assalto al ghetto. Numeri tra attacco e difesa? Eh, l'assalto al ghetto era... Mi ricordo se era... Mi ricordo se era... Sì, questo sarebbe, mi ricordo, era... Mi ricordo se era tipo dieci... Perché la fazione che difendeva comunque era un numero illimitato, perché comunque veniva assaltato. Ehm... Gabri, Jay, grazie per il follow, benvenuto. Quindi se che assaltavano, non è se massimo dieci o... Finalmente ste WL, è vero Gabri? Eh, sì, ma ogni tanto le porto qualche sabato, qualche domenica, quando c'è tempo. Purtroppo ora con poco tempo che c'ho, quando riesco ogni tanto le porto, quello che è detto ogni tanto. Era numero illimitato. Quello che è il... Mi seguivi da settembre, minchia, grazie. Mh? Guarda, mi sovra il follow. Mentre... Chi... Assaltava... Ehm... Era massimo... Uff... Non ricordo quanto cazzo era... Non ricordo, era tipo... Vabbè, vai tranquillo. Aspetta, la diciamo alla fine. Ehm... Loot to track gang. Cosa ci si può lootare? Ehm... Track gang si può lootare. Ho avviato il pronostico, se volete... Giocare. Pistoli? Ah, col pietra, sì, me lo ricordo, me lo ricordo. Ormai era. Porto i processi in live, tutti i processi che faccio, ormai li porto sempre in live, sai? Se ti interessano anche quelli guardarli, mi trovi spesso in live anche per i processi. La polizia può essere corrotta? Sì, la polizia sì. Ok, i sceriffi? No. Sì, sceriffi sì, scusa. Possono essere corrotti, sceriffi, poliziotti... Per chi vuole fare domande, ragazzi, vi ricordo che potete giocare i punti, giocare 300 punti e suggerisci una domanda e scrivere la domanda appunto... Un civile, puoi sparare dall'alto. ...como giocando quei punti, riscattando quei punti là, eh ragazzi, vi ricordo. Quindi, Gabri, se vuoi chiede a farmi fare una domanda al ragazzo, io voglio riscattare la domanda. Perfetto. Avere una domanda. La differenza tra venita di armi e venita di droga. Qual è la risposta? Mi sento... Non ti ricordo, ragazzi, ma non mi ricordo bene. Perché non guardavo... Non faccio guai, adesso da un bel po'. C'è un po' ruggito. Mentre la vendita di droga può essere fatta comunque da chiunque. Giochi Natale, bella! Buongiorno, tutto bene, tu? Vitta, se vuoi farmi fare una domanda, devi riscattare. Prego, ripeti un attimo. Eh? Ripeti un attimo. Eh, un po'. Scusa, ho visto quella vita che hai riscattato, pardon. Mi senti? Sì, sento. Prego, ripeti un attimo, per favore che non l'ho sentito bene. Ripeti tutto, devo ripetere. Mi sento lontano dal microfono. Aspetta, tu come me senti? Ora bene. Ok. Allora, stavo a dire. La vendita di armi può essere fatta dalle mafie, cioè viene fatta dalle mafie e anche dalle gang. Però dalle gang vengono vendute solamente le armi a chi appartiene alla loro gang. Quindi, o sennò a qualche tossio o così. Mentre la vendita di yoga può essere fatta dalla mafia e anche dalle gang. Ok. E ti faccio un'altra domanda. Per aprire i poliziotti come si può fare? Nel senso, per aprire un poliziotto? Trammi da un ticket. Trammi da un ticket? Sì. Devi aprire un ticket. E devi avere le giuste motivazioni. Per avere comunque la gente. Ok. Ah, è vero, scusami. Ah, se mi intendevi il numero di partecipanti in azione, allora sì, me lo ricordavo. Ok. Però la domanda era imposta male, Gabriele. Ciao, Ale, ciao. Ale videogame. Bene. Ci ritiriamo un attimo. Io e Wall e lo staff per capire un attimo. Sì, ragazzi, quante due ore non hanno niente da chiederti ancora? Wall, Federica? Sì, se volete fare qualche altra domanda magari per sta un pochetto più... A posto? Per me sta a posto. Ok, un attimo solo. Mutare stream. Un attimo solo. Per fare una cosa. Ok. Perfetto. No, no, non la muto, non la muto. Se dovevo terminare solo il pronostico un attimo, se no poi la gente accettava, doveva votare quello che dicevamo. Eh no, la devi mutare perché sennò lui... No, no, lei... Ma anche se intanto lo diciamo dopo. Comunque, lei solo lo dico sempre, adesso lo dico sempre in live, però lo riflettiamo. Allora, domande a cui ho risposto? Alcune le ho sentite sbagliate, diciamo, conta che a certi momenti... Io mi sono segnata le mie. Conta che alcuni momenti non le seguivo completamente le risposte che dava, perché magari stavo lasciato un attimo solo. Però, da quel che ho capito, ha fatto un po' di errori, insomma, quindi... Qui c'è il PG da gang, però di gang non sa nulla. Non sa il loot tra gang, non sa l'assalto al ghetto, e non sa che un civile può sparare se... dalla macchina, se uno li fanno fiare estremo davanti. Almeno questo ha sbagliato con me. Poi ha sbagliato le fazioni massime. Beh, direi che ha fatto un po' di errori. Io vorrei passare la Wild, diciamo che la fate abbastanza. Quindi direi che... Passa, te l'hai io. Tu? Se è giusto. Sì, sì. Allora, glielo smutiamo e glielo, diciamo. Smuto. Ok. Aldri? Sì. Allora, hai fatto un bel po' di errori, eh. Dovevo dire ancora. La Lictus vuoi dire una cosa che guarda poi come hai detto tu di me, come hai appena detto riguardo le gang. Nelle domande mie, ho sbagliato il loot tra gang, che non si vuole lotare niente. Tra gang. Hai sbagliato. L'assalto al ghetto perché l'attacco è illimitato, come la difesa. E un civile può sparare dall'auto per non fiare estremo. Per non fiare estremo, giusto. Per non fiare estremo. E poi le fazioni criminali e le... E poi, cioè, diciamo, tra gang, poi tra gang c'è da dire che ci stanno delle eccezioni del regolamento d'impero che tra le gang possono fare il drive-by. Quindi tra gang possono spararsi dall'auto, ok? Quindi diciamo che questa regola del spararsi dalle auto, dall'auto, è abbastanza ampia. È abbastanza ampia. Cioè, ci sono molti tipi di restrizioni, ci sono molti criteri. Cioè, non puoi di standard, ma puoi farlo se per il nofiare estremo. Ma le gang possono incertare in certe circostanze tra di loro. Ok. Vabbè, comunque dai, ti rimandiamo al conto da Lick deciso? Sì. Nella prima volta, quindi direi 24 ore, esatto. Poi puoi ritornare, va bene? Va bene, sì. A posto, dai. Ciao, ciao. Ciao. L'hai scritto? L'ho scritto? No, tu lo sei a scrivere, ho visto. No, no, l'ho scritto, l'ho scritto. Come si chiamava questo? Aldi. Puoi leggere in prima tua cosa veloce? Non la leggo, ora. E andiamo avanti. Chi è il prossimo che ci toccherà? Direi Marco Aurelio, che non ha mai fatto la whitelist. Con quante professionalità, Dani. Con quante professionalità. Che senso? Non lo so, prendi già i ragazzi che non hanno già fatto la whitelist. È giusto. È giusto, prima loro, e poi dopo ci sono gli altri che sono rimandati. Ma in verità lui ci ha provato a fare la whitelist. Tanto tempo fa, ma ci ha provato. No, no, no. Tempistica? Molto tempo. Vabbè. Vediamo un po' quanto è molto tempo. Sì, 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 sì. Vediamo. Sì, questo? Ah, sta già da 37 ore, quindi ci sta. Marco Aurelio. Ok. Trolliamo un po' lo steam, bbwbw. Ok. Oh, se è piato qualcun altro, se ne è andato. Non c'è più da nessuno, se ne è andato. Vediamo un altro. Grazie a tutti. 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 Ok. Che tipi di armi si possono usare? Che cosa? Che tipi di armi si possono utilizzare in azione free room? In azione free room si possono utilizzare le pistole e 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 le smg. No solo le pistole e 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 le Quali sono le fazzioni neutrali? Le fazzioni neutrali sono i medici, i medici e i medici, solo i medici. Se volete suggerire delle domande ragazzi scattate pure i punti come ha fatto da Gabriele, scattate 300 punti puoi fare la domanda che farò nel livello qua ragazzi. Cioè sono fazzioni che non possono fare azioni. Fuori servizio? Neanche, tipo il dottore non può fare azioni. Il medico può fare un perma? No. Mi dici quanti motivi ci vogliono per il perma, Dett? Dici motivi RP. Ci sono permalette e ne richiedono uno solo? Il defazionamento. Solo? E il nofier estremo. E anche il permagill però... No, il permagill ci vogliono più motivazioni. Quello non è un permalette, è un permagill. Cosa sono le zone arancioni? Le zone arancioni sono zone assegnate dal cartello a determinate fazzioni. Mh. Ad alcune mafie. Che si fa in queste zone arancioni? Mh. Mh. Non ho capito. Che cosa si fa in queste zone arancioni? Ehm... 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 E una... Si... Si dovranno presidiare e difendere. Ehm... Che sai? No. Cosa sono le zone arancioni? Ehm... Le armi solo pistole. Ehm... No caschi. E per conquistarla ci vuole un ticket allo staff. Ehm... Se... Assalto questa zona arancione senza ticket viene annullata l'azione. Si. Si viene annullata. Vabbè ti faccio un esempio. Allora... Dani è il capo fazione dei families, una gang ufficiale. Io sono il vice capo. Viene arrestato. Viene portato in centrale di polizia. Ehm... Decido di assaltare la centrale di polizia. Io e altri nove families. Sempre dei gangster. Ci prepariamo con carabine, radio, telefoni e veicoli. Assaltiamo la centrale di polizia. Vinciamo l'assalto. Facciamo scappare Dani. E ce ne andiamo. C'è qualcosa di sbagliato? No, si può fare. Se è un capo fazione, si può fare. Vabbè, io... Per me... Le mie domande sono terminate. Dai, se vuoi. No, vanti. C'è un'altra domanda. Il power game che cos'è? Il power game è quando fai delle azioni che non faresti mai nella vita vera. Mi fai degli esempi? Ehm... Vabbè, il classico. Scalare la montagna con una sportiva. Ehm... Buttarti... In velocità... Buttarti tipo dal ponte con... Ehm... 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 Quando... Inizi a scalare... Inizi a scalare le montagne... Da solo... Cioè con... E se è solo questo, come dire, il power game o ce ne sono stati anche altri? No, ce ne sono altri. Ehm... No, spiegali pure. Ma ho capito. Spiegali pure altri esempi. Ah, vero. Ehm... Ehm... Camminare scalzo. Padre Giacomo, grazie per il follow. Benvenuto. Ehm... 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 Buongiorno, buongiorno Padre Giacomo. Buongiorno. Ti bucano... Se... Non puoi andare con delle ruote bucate. Della macchina o della moto. Ehm... Ehm... Mangiare con la maschera. Superare i limiti... I limiti dei veicoli. Devo... Nello sterrato. O... Fuori... Fuori dallo sterrato e fuori dall'autostrada o delle... Ma un esempio di Power Game che non comprende veicoli o dolore del personaggio qual'è? Mangiare sott'acqua. Oppure? Capriola mentre usi la radio. Ehm... Ehm... Va bene... Va bene... No, ho avuto un attimo da ridere. Va bene, va bene. Allora, se... Per gli altri staffer non abbiamo domande... Ehm... Se l'hiamo usato un attimo, raga. Collocchiamo un attimo, esatto. Allora, ragazzi, quindi? Allora, da parte mia, tre domande tutte e tre sbagliate, quindi... Quindi... Tre domande e tre sbagliate. E ha letto ad esempio da Impero 3K. Da me, diciamo, ha risposto correttamente un po' a queste domande. Ovviamente aveva qualche inciacco, qualche modo, qualche cosa da rispondere, un po' che... Non rispondeva, non diceva, diciamo, non mostrava molto impegno da rispondere, cioè... Nel dare risposte. Cioè, gli esempi gli chiedevo, me ne ha detto uno e basta. Se l'ha fermato lì. Quando abbiamo chiesto esempi, dovevi tirarli fuori le risposte. Secondo me è ancora da aspettare un po'. È la prima volta... Ti spiego, perché io ho fatto... Sto qua già ce l'aveva la whitelist, ti ho detto... E l'ha dovuta rifare. Vuole fare il poliziotto in RP, se non sbaglio, lui, o? Sì, vabbè, questo sì. Però io, personalmente, gli ho fatto tre domande che se hai giocato nel server lo devi sapere. Il perma del medico si può fare. Se assalti una zona arancione, oltre che viene annullata, chi muore prende il perma. Direi che allora è nulla. Cioè... Poi ho fatto, boh, per me, per le mie tre domande, pure 48, però... Vabbè, è la prima volta che ti fa la whitelist dopo che gli è stata tolta? Sì. Allora 24 ore. Anche perché io ho fatto un esempio dell'assalto in centrale. Tu che vuoi fare il poliziotto. Ti ho fatto l'esempio dell'assalto in centrale. Le gang non possono usare radio, non possono usare carabine, e non possiamo essere dieci criminali, ma otto. Lui mi ha detto che andava tutto bene. Quindi è un po'... così. Però... Vabbè, ma per ora diamone solo una 24 ore. No, vabbè. Ovviamente siamo qui in tri... Cioè nel senso, quando siamo più di uno staffer, ci mettiamo d'accordo insieme. Non è che mo' dico no, gli dovete da 48. Per le mie domande, io gli darei 48. Se voi siete d'accordo di dare 24, sono d'accordo anch'io. Vabbè, vabbè. Non è che io mi metto contro di voi, nel senso. No, ma fa lo stesso, come volete voi. Cioè... No, no, per me... Per me dicevo qua. Se la prima volta, appunto... Sì, sì, sì. Era meglio 24, perché appunto ho sempre stato passato qua. Prima volta 24, la seconda volta, in base alla cavità, anche 48. E ho vinto sempre più. Sì, sì, ma assolutamente. Non metto in dubbio. Per quello vi dico. Siamo qui e ne discutiamo di quanto tempo. A posto. Allora, chi scrive? Ok, c'è la scritta. Vai, lo smuto. Quindi quanto 24, no? Sì. Malangelo? Ecco. Allora... Diciamo, ancora non ti vediamo completamente pronto per passare la whitelist, ok? Va bene. Quindi diciamo che per questa volta ti rimandiamo solo 24 ore, devi ripassare, sei più convinto negli esempi che fai, perché ti dobbiamo tirare fuori noi le risposte, quindi di conseguenza la prossima volta partiamo più sugli esempi e quelle che abbiamo fatto un po' le sbagliate, quindi mi raccomando, ok? Ok. Esci dal server di Impero 3K. No, capito. Esci dal server di Impero 3K. E qual è? Eh, quello in cui ci stai dentro. Questo rosa? Ah, ecco. A posto. Ciao. Ciao, buona saluta. Ciao caro. Buon. Buon. Tornato Marco Aurelio. Allora... Quindi... Un po' too much. Cosa? Per senso. Buon, mi è sembrato un po'... Non lo so se non era pronto... Era venuto giusto per... Dice botta di culo e passa. Non ti so di... Vabbè, comunque... Marco Aurelio dice tanto tempo di RP, tanto. Molto tempo ha scritto. Come ne ho conosciuto? Diretto. Rockslope MK, benvenuto. Buongiorno. Grazie per il forno. Prima è venuto uno che ci aveva scritto. Ciao. L'ho conosciuto tramite Matteo HS. È stato bellissimo. Vabbè. Poi... Marco Aurelio... Vogliamo fare lui? C'era già fatta la guardia? Se nessuna volta mi dicevi che ce l'aveva già provato, avevi detto? Sì, ce l'aveva già provato ma da... Cinque mesi fa, sei mesi fa. Non si fa. Aurelio lui. Spostiamo lui dai. Spostiamo lui dai. E intanto di controllo peckerò. Sposti lui dai. Ciao, buongiorno. Cinque? Ciao, buongiorno. Buongiorno. Chi è? Ti senti? Sei in whitelist in pelo. Canto l'audio, bene. Perfetto, non ci senti. Ti senti? Tutto bene, Rox, tutto bene. Tu? Non so se ti ricordi le live che caricavi su YouTube. Te le ho viste tutte dalla prima all'ultima. Eh, grazie Rox, grazie mille. Spero che ti siano stati utili per passarla, ecco la whitelist. L'hai già provata, l'hai già fatta la whitelist in pelo. E' del furto su di Scott. Ah, perfetto, buonasera. E' venuto in whitelist. E sono in live, è un problema se la facciamo in live? Ah, no, non è un problema, anzi. Figurati. Ok, perfetto. Prima di iniziare, Dani. Ho letto il background, ma il tuo background è ambientato completamente in Italia. Eh, sì, avevo fatto un background, se non erro, i primi di gennaio. E in realtà è un background vero e proprio, nel senso... Sono io proprio, io come persona, nel background. Ok, ma il problema è che è ambientato in Italia. Invece, Impero è in America. Esatto. Poi si vuole trasferire all'estero perché scopri... Se non erro bene, ora non mi ricordo tanto bene il background che avevo scritto. che lui dunque scopre che qua nella città d'Impero ci si può arruolare perché non ci sono i limiti d'età. Perché all'estero non esistono i limiti d'età. Ah, cazzo. Mi dispiace. Però intanto puoi giocare su Impero no White, li stai volendo, eh. Cioè, li puoi giocare senza problemi, è stato appunto per questa gente che non può operare la voce bianca o che non può perché non ne passano i limiti d'età. Poi siamo tenuti in Italia, ma ti puoi giocare lì, eh. E quindi si trasferisce per... Che cosa fai con il server là? Cosa fai nell'Ul? Ok, ma... Non si chiama Impero, si chiama Losantos. Eh, sì, va... Sì, ok, ha ragione, volete. Vabbè Impero perché era il nome del server. Per questa cosa. Ok, va bene. Bene, allora partiamo con qualche domanda semplice. Definizione di RDM o VDM? Lo dovrei pure aggiornare perché ho 31 anni adesso. Ok, definizione di RDM o VDM? Allora, RDM non è altro che uccidere le persone quando non si ha un valido motivo. VDM invece uccide le persone acciaccandole con la macchina. Ok. Perché se lì, secondo me, ci potrebbero essere anche, diciamo, dei VDM leciti. Nel senso, un criminale che mi spara fermandosi davanti alla macchina, io potrei anche investirlo. Cioè, ci sta un limite, no? Ci sta un limite, no? Cioè, se un criminale mi si ferma davanti alla strada e mi inizia a sparare, non so per quale motivo, io non è che prendo la macchina e la fermo, lo acciacco. Se condessolizzi nella realtà il VDM non esiste, perché se vuoi buttare una persona sotto, nessuno te lo vieta. No, sì, per carità, no, ovviamente nel... Eh, no, sicuramente tu puoi provarci dopo qualche mese di farla qua. Il VDM è proprio evitare che incominciate a buttarvi sotto totalmente il caso. Per evitare che quella meccanica di gioco uno non la sfrutta a suo vantaggio. Però se un criminale mi si mette davanti alla strada e inizia a spararmi a me che arrivo, che ne so, a 50, 70, 80 all'ora, lui fa no fear, giustamente, perché non ha paura di essere investito mentre lui spara, e secondo me la persona che viene sparato in quel fragente ha anche diritto di buttarlo sotto, ecco. Vabbè, una dinamica di gioco, comunque. Vabbè, comunque, e definizione di metagame? Metagame? Il metagame non è altro che utilizzare informazioni OC in IC. Ok, mi fai l'esempio. Oc sono tutte le informazioni che tu recuperisci al di fuori, i C sono le informazioni di gioco. Mi fai l'esempio? Per esempio in OC scopro che tu fai parte di una gang, in IC io non lo so, utilizzo quell'informazione per parlare con te, per sapere informazioni, ovunque, sfruttarle in gioco, ecco. Esiste metagame in IC, giusto? Come, scusami? Esiste metagame in IC, giusto? Metagame in IC come lo puoi fare? Lo puoi fare vedendo, come ne so, dei colori particolari. Una persona sa che quel colore fa parte di una gang e tu sai che quello fa parte di quella gang. In realtà tu non lo sai perché le persone si possono vestire in tutti i modi e in tutti i colori. Quindi se tu utilizzi il colore come membro rappresentativo di una gang, fai metagame. Definizione di power game. Power game? Power game non sono altro che tutte quelle azioni che tu nella realtà non faresti, che però in gioco tu le fai perché con le meccaniche riesci a farle. Per esempio, nella realtà vai incrociando addosso una macchina e presumo che o sei matto perché lo fai, o fai un incidente, ti fai male o comunque ci sono i danni irreversibili alla macchina, danni irreversibili alla persona che non ti permette comunque di proseguire la tua giornata tranquillamente. In gioco invece, se tu fai un incidente con la macchina, per fare il vero role play, per fare la simulazione vera, ti dovresti fermare. Invece la meccanica del gioco ti permette comunque di ripartire velocemente e quello è un power game. Poi ti posso fare il power game più classico. Non puoi rallire con la macchina sulla montagna dei 1300 metri, andando per lo sferrato. Altri power game, ad esempio, non puoi... Non so, già bello, poi è piano di power game. Esempio, nella vita reale non penso che tu fai una distanza, che ne so, da punto A a punto B sono 20 km e tu te la fai correndo a piedi. Oppure quello è power game, cioè, nella normalità tu non lo faresti. Ok. In gioco lo potresti fare. Va bene. Esempio, che ne so, la nuotata del secolo quando stai... Va bene, va bene, possiamo... Ok, va bene, sì, scusami, stavo divulgando. Ehm... azioni illegali, numero di partecipanti in azione, vorresti dire? Ti dico la verità, ehm... Ehm... Il regolamento, eh... Ancora non l'ho guardato per bene, più o meno so... Perché più o meno, il regolamento è un po' più... un paio di giornate per leggere il regolamento... E poi... E' una notata che devi saperli, i nuovi dei partecipanti per fare la whitelist, eh? Ehm... Ehm... Scusami, dimmi? Devi... Devi essere... Cioè, devi leggerti il regolamento e saperli prima di fare la whitelist, eh? Ehm... In linea di modo lo so... Ehm... So sincero, ti dico... In linea di modo lo so, ti posso dire nella fliga, possono, che ne so, partecipare al massimo quattro... Quattro rapinatori, non si possono utilizzare i caschi, eh... Ehm... La polizia interviene anche con le armi automatiche... Tipo... Ehm... Quelli che fanno il ghetto, possono rapinare fino al massimo i negozietti... E non possono fare rapine, che ne so, alla fliga... Cioè, il regolamento generale lo so... Ovviamente... Ehm... Ehm... Comunque... In azioni free room, che tipi di armi si possono utilizzare? Eh... Scusami? In azioni free room, che tipi di armi si possono utilizzare? Nel... Per sumo armi bianche e massimo una pistola? Ti ripeto, comunque, so sincero, eh... Come ti ho detto poco fa, il regolamento lo dovrei rivedere e li leggere, lo farei solamente... Quando entro... Casomai, la possibilità di venire a giocare... Ossia quando c'ho tempo e quant'altro, ovviamente, venga a giocare. Ehm... Vabbè... Come... Che tipi di perma... Cioè, il permalette come funziona? Che tipi di perma esistono? Allora... Ehm... Il perma non è altro che... E' una conseguenza che può ricevere un giocatore in base a delle azioni che svolge. Esempio, ci sta il perma perché viene richiesto, ok? Tipo, un tuo rivale richiede il perma perché ha delle informazioni tali per richiedere il perma e allora te lo fa in quel... Poi ci sta il perma, ad esempio, che potrebbe essere simuli un'azione, simuli una scena RP dove tu sei sul ciglio di un balcone, di un grattacielo, dei cento piani, se caschi nel vuoto, lì è perma. Anche perché cento piani nel vuoto, presumo che quando caschi giù e arrivi fino al fondo, muori. Per me ci sono questi due tipi di perma. Cioè, un perma richiesto e un perma che comunque si può svolgere all'interno del gioco. Certo, quindi io lì ho preso il vantaggio del numero e lì automaticamente... Sarai in live, salve. Ecco, è arrivato cima, te l'ho detto, dovevi ruolare la paura anche nella whitelist, cazzo, Mauro, che cazzo se lo sente? Che palle. Perfetto, mi ha spostato ninja. Senti Dani, mi fai una cortesia? Sì? Sono in live io. Puoi dare la whitelist a Daniele, cortesemente? Sì, certo, intanto nel frattempo la aggiungo perché sono in live, quindi sto facendo anche le whitelist in live. Ok, Dani si sta spammando le sue live, ricordiamo il suo canale che ti aspetta. Qual è il tuo canale? Perché non c'è scritto qua? Eh, no, il mio canale è Dani, se non... chi sono lo trovi? Ma scusa, scusa, il tuo canale non era fotosintesi 05. Mi spammo, yeah. Comunque. No, cimma, cimma. Aspetta. Mi spammo un po', guarda voi. A sto punto dove ci sono. Vai, vai, vai. Capito quindi quello che ti dico, Dani? Sì, sì, sì. Quello che ti vorrebbero dire, ma non vogliono dirti essere un figlio di puttana che ti sei spammato. No, a me non mi fai un cazzo, però quello che ti dico io... Ma non te lo dicono dicendo di tipo... Aspetta che sto perdo il filo, Cri. Quello che ti dico io è che secondo me nel ruple ti capiterà diverse volte in cui in base a quello che tu dici potrebbe creare un vantaggio e svantaggio durante diverse situazioni. Oh, vabbè, basta, è passato Mauro, andiamo in RP. Grazie per il polo a tutti quanti, ragazzi. Vabbè, non ne faccio più white list, andatevene a cagare. Ringraziando Dio. Ringraziando Dio. No, mezzo giorno. Ringraziando Dio, ragazzi. Ringraziando... Vabbè, io me ne vado, Daniele. Vabbè, allora mi metto la white list io, allora lui, eh. Ciao Daniele, ciao Gringio, ciao Chris, a domani. Ciao bello, ciao ragazzi, ciao Daniele, ciao ciao. Ciao. Allora, Daniele, ti metto la white list un attimo solo. Sì. Che stavo... Ok. Alluura, il tuo SteamX mi serve. Sì, te lo dico subito. Eh, bravo. Se riesci a passarmelo? O ce l'hai... No, l'ho passato due minuti fa in chat. Dove te lo scrivo? Eh, in privato, in privato. Ok. Allora, facciamoci inizie, cerco di stabilire dei... Porco cane, ho missato. Oh, mamma mia. Comunque, mi hai trovato, MD. Oh, ragazzi, grazie per il follow a tutti quanti. Adesso non riesco più a ringraziarvi tutti quanti. Grazie per il follow a tutti quanti, ragazzi. Veramente. Ok, adesso l'ho risposto qua. Scusami, Daniele, ma mi sono disconnesso e non posso più riconnettermi in quel canale. Ok. Allora, e... Allora, allora... Ok, te raggiungo ora. Sì. Perché volevo... Premere su di te. Poi non so che è successo. Mi sa che qualcuno si è unito in un canale e mi si sono spostati sei canali perché... Perfetto. Allora, ti metto la tag... Put Listed. Ecco qua. Ok, grazie mille. A posto e la White List ce l'avrai a bere sul DB. Quindi 5-10 minuti ora che si refreshano le White List e ce l'hai, ok? Sì, 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 sì. Perfetto. Ciao. Ciao, ciao. Ragazzi, scusatemi di eccomi. Mi ha sto... Un attimo brizzato. Poi ho tornato anche a casa perché prima convivevo, ma manco convivo più. Oh, bravo. Allora... Perfetto. Allora, stavamo... Un attimo, continuatela voi, ragazzi. Che io non ho mai perso. Mi ha perso il figlio. Ti mutiamo un attimo, Marco. Un attimo. Sì, perfetto. Allora, come? Ah. Oh. Com'è andato? Male. Io ho fatto... Mi avevano spostato perché devo aggiungere una White List anillo. Sì, l'abbiamo visto. Boh, io ho fatto... Tre domande... Potrei anche già rimandarlo. Infatti lo verrei rimandamo perché permette che significa quello che chiedi e quello che fai in gioco. No, ma infatti l'ho segnato... Mi fate un one refresh, per favore. Se non sono in game. Io che devo ringraziare tutti i follower perché nel frattempo abbiamo approfittato di spammarmi e c'ho tipo 25 follower in più. Aiuto, aspetta un attimo. Oh, è Pitbull! Ma grazie anche per i 100 bit! Cioè, mamma mia! Dov'è Pitbull? Grazie Pitbull, davvero! Comunque grazie a tutti per il follow, ragazzi, veramente, ma c'ho tipo troppi follow da ringraziare. E poi, dopo, magari, se vedo, comunque, MD Slow, Alfa, Voluz, Alley, Pix, Cristian, Pitbull, Marmellata, GoTV, già, da l'ora... Seguitemi tutti! No, è vero! DiegoTV, Michele, Cristian, Yelic356, Alessio, NGRflix, MC Pro, ProGioche, TwitchLicca e ChrissyPix. Grazie per il follow tutti quanti e grazie ancora per tutti i beat... Pitbull, veramente. Comunque, finalmente, mi ha trovato, MD che mi cercava. Sono un carissimo tuo fan, addirittura. Comunque... È un Don Giovanni. Io avrei paura di fare la whitelist, ma ho paura di sbagliare, ma vieni comunque. Tanto se sbagli, al massimo ti rimandiamo 24 ore, la rifai domani. Al massimo ti mangiamo, proprio, no? Cioè, a meno che proprio non fai le cose proprio bannabilissime, non ci fai una whitelist, non ci fai una whitelist, come se non avessi mai visto un gioco di RP nei live in nessuna parte, non vieni rimandato più in top. Vabbè, vabbè, vabbè. Comunque, sto ragazzo. Quattro vieni. Allora, il fatto che lui vuole fare il RP tanto di cappello, il fatto che tanto di cappello, il fatto che però, e io lo scopro in gioco, eh... Anch'io ho scoperto tante cose in gioco, però la whitelist lo devo sapere. Se tu non sai i numeri di ingaggio, non sai i permanent, non sai le fazioni indoccabili, non sai... Perché lui parlava di scene, ho detto scusa, ma allora la differenza tra scene RP e azione RP qual è? Ciao Twitch Antonino TV. Buongiorno. Le scene anche noi quali mettere che stiamo parlando davanti al locale, quindi... Che troll veramente, guarda. L'azione è la conseguenza di una scena... Allora, ti ho trattenuto di una tesa guaita, scusa bene Alfa. Che... Infatti è un gioco, non aver paura. Anche ansia, vabbè, raga, ma l'ansia è la prestazione. L'ansia per fare i test, anche a scuola, dai raga, che non avevi avuto un attimo un po' di ansia prima di una pedifica di un esame. Sì, sì. Vabbè, comunque... Io appoggio la vostra... Appoggio la vostra cosa, appoggio la vostra decisione perché mi sono perso un video. Sì, avete un mega di un cazzo. No, perché stavo ringraziando, stavo accettando un attimo con i ragazzi. Comunque, appoggio la vostra composta, ragazzi. Vabbè, decidete voi le ore, voi siete i capi di questa bella whitelist. Forza. Perfetto. Perfetto. Sì, sono d'accordo con voi. Perfetto anch'io, molto d'accordo, veramente. Sì, 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 sì. Però, secondo me, dovremmo aggiungere un paio di ore, sì. Sì, bravo da lì, sì. Mamma mia, veramente. Sì, sì. Sì, ok. Grazie per il follow, Vita. Benvenuto. Voi, segura e poi battito. Vabbè, vogliamo sbrigarci, sennò questo rimane mutato. Sì, fate quello, ciao. A me mi hanno chiamato un attimo. Eh, vabbè, Pitbull. Grazie di follow a Mikey Sant'Angelo assist, benvenuti e Pitbull, cavolo. Cioè, grazie per i cinque volamenti regalati. Inchiavo. Grazie mille, Pitbull. Comunque dai, ma dici tu fai qualcosa di nuovo, non ti preoccupare. Puoi scrivere tu questo telefono. Va bene, va bene. Quanto tempo? 4 ore, giusto, perché... Non voglio... Non voglio esagerare oggi. Boh, a posto. E se lo smuti anche, mi fai un favore. Se lo seguono solo. Lei... Lei è Don Giovanni. Se lo vuoi di tu... Eccolo qua. Marco. Ok. Allora, abbiamo... Deciduto di rimanare 24 ore. Per chi ha avuto delle mancanze sotto loro. Spiega bene, mi fai con io. Perché io, l'ultima parte dell'autowilding, me la sono persa. Quindi... Lo spiega lui un attimo. Allora, ti aveva domandato Dani o Dalicola? Non mi ricordo il permadet. Bene. Non ricordo chi è due. Diciamo che sia stato molto valore. 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 E non li ha ai meno iniziati tutti. E non li ha aiutati tutti. E non li ha aiutati tutti. E non li ha aiutati tutti. Grazie, ragazzi. Grazie per il follow. Veramente. Su come funziona il permadet. Mi sono perso qualcosa. Il permadet, il primo esempio fatto, non è completato la definizione che il permadet è valido se ci sono dei motivi, però devono essere 10 motivi. Ho detto, aspetta, aspetta. Io ho detto che ci sono due tipi di permadet. Grazie ancora a tutti gli abbonamenti. Il permadet viene richiesto, ovviamente, da una persona. Viene richiesto, ovviamente, per i motivi. Pur io, Marco, parlo italiano. Per essere accettato, ovviamente, da un fatto. Pur io, parlo italiano. E tu non hai enunciato la definizione giusta nel dire che non hai detto che ci vogliono 10 motivi. Dili. Primo. Allora, un codine che mi hanno bannato, ho sbagliato l'azione. È importante. Ma la richiesta deve avere i motivi. Se posso, così capisco un attimo il motivo del tuo ban. Non vi preoccupate. Un attimo. D'Antonio, riscrivi un attimo in privato, così dopo vedo un attimo qual è il tuo motivo del ban. Tanto mai mi trovi, appunto, qua. Se vuoi cercare il mio contatto di Discord, mi trovi nei rimandati. L'ho scritto ora il rimandato del ragazzo. Quindi mi trovi lì, se vuoi, scrivi in privato. Così almeno vedo cosa è il motivo di tenere tutto bannato. E Massimo parlo con chi ti ha bannato e vedo. Però non posso far miracoli, te lo prometto. Cioè, premetto, premetto che non posso far miracoli. Quindi vediamo, Massimo potrò parlare. Sposta Twitch, metti che aspetta da due giorni. Stai spostando il mio. Eh, ragazzi, un attimo. Purtroppo non posso spostare tutti. Vediamo comunque dopo. Ma io ho già spiegato la voce ieri in polizia. Leon... Io sono in polizia. Sono il vice capitano, smetto. Io faccio parte della gestione della polizia insieme a Medogiorno, a Torre. Gli altri ragazzi. Sono parte degli ufficiali di polizia. Quindi ovvio che mi hai sentito in polizia. Ehm... Per sbagliarti nel Discord non posso, Antonino TTV. Devi chiedere... Devi chiedere agli admin. Come ti ho detto, scrivi in privato. Poi bisognerò appunto... Bisognerò poi dopo chi ti ha bannato e tutto quanto. E parlerò con quella persona. E potrai parlare poi magari con quella persona lì. Ma te sei un moderatore? Io sono un ex moderatore, ma posso fare comunque... Sì, sì, faccio il moderatore. Esatto. Sì, sì. Sono un moderatore, Alic. Ehm... Non sono Gold. Sono Smith. Sono un nuovo tuo canale... Da quanto tempo sei su Twitch? Sono su Twitch da un paio d'anni. Solo che ho avuto... Ho fatto live un po' altalenanti. Cioè, per un periodo ho fatto live e per un altro no. Ho smesso di incominciare un paio di volte. Ho portato le White. Listo poi ho portato un po' di RP. So che l'RP un po'... Vediamo... Io faccio un po' di RP un po' noioso. Quindi non lo porto molto volentieri in live. Io ho sentito la tua voce quando pubblicavo i VOD su YouTube. Eh sì, Alphabrux. Io pubblico i VOD su YouTube appunto per far vedere appunto la gente le White. Se interessa. Ehm... Ciao ragazzi. Negategli. Alla posto. Scusa, scusa Dani. Hai fatto bene a mutare. Io mi sono mutato appunto perché ho sentito che la gestazione stava generando. Mi sono messo un attimo a parlare con lui nella chat. Lui per il suo motivo di ingazzarsi è perché non ti ho detto 10. Non mi ha nemmeno fatto finire di dire che... Oltre al fermo ha detto i 10 motivi non ne ha detto più nessuno. Ne mancano altri 4. Però per lui... Lui ha capito che è stato rimandato solo per questo. Vabbè negategli la guardia. No, è triste. Non è semplice negare la guardia. Se negategliela pure. No, la consento io perché sono io. Se qualcuno viene a dire... Ma sentiamo tutti ragazzi. Non è che... Se qualcuno viene a dire perché io l'ho negata... Certo. Se è a 31 anni. Se è a 31 anni. Facciamo commenti comunque, andiamo avanti. E... Dai, andiamo avanti con il prossimo che possiamo spostare. Vediamo un po'. E qua c'è gente... La vuoi tristare. Vediamo questo. Io la teglia non ci devo venire perché mi incazzo. Non va bene. Io parlo italiano. Pure io parlo italiano. Eh, Antonia TTV non vuole. E ti ho detto che è completa la cosa. Non ci posso fare nulla. Se gli ho scritto Matteo... Alla questo punto devi aspettare che lui... Ti sbanni. C'è un zattera. Zattera. Vediamo. Un zattera qua. Vediamo un po'. Se l'è preso Devex. Non so ver... Se l'è preso Devex. Se l'è preso Devex. Si dica che non ha fatto né modulo né... Aspettate che lo vado in su... No! Vabbè spostatelo. Spostatelo. Questo è play. Vabbè, non ce l'ha spostato Devex. Vabbè. Se l'è sposto Devex. Vabbè, se l'è preso 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 Devex. Vediamo il link Steam. Bene. Allora. Ah. Ha pure un altro account Discord di ragazzo. Vediamo questo qui. Questo account Discord. È stato rimandato per voce bianca. Con l'altro account Discord. Cosa di chi parla, Antonio? Parlo di te. Che insieme a te non ti vuole sbannare. Purtroppo non ci possiamo fare nulla. Bisogna chiedere per forza chi ti ha bannato. Se l'hai fatto tu, già hai detto che non ti vuole sbannare. Non ci possiamo fare nulla. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Allora. Questo qua è il tuo account Discord principale. Mi senti? Sì. È il tuo account Discord principale? Certo. Sì, sì. Ok. Allora. Quindi. Tu. Non conosci un account Discord che si chiama Noah. Ma... L'account Discord... Io non vorrei dire... Ho mutato un attimo l'audio perché... Ho un po' paura... Di cosa potrebbe succedere... Con questo ragazzo, ragazzi, eh. Babadrillo... Babadrillo. Grazie per il follow. Benvenuto. Comunque... Ho un po' paura di cosa potrebbe dire sta persona. Ho detto anche il background PG. Sì. Ma può essere? Scusa. Aspetta un attimo, eh. Oh. Ehm... Oh, porca p*****na. Stingo mi devo fare... Vediamo? No, no, no. È il mio, Ghibli. Sono io. No, no. Va bene qui su... Su background. Grazie per il follow. Or... 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 Il tuo? Sì, è bassissimo l'audio, lo so. Non so perché. Ok. Ma tu adesso sul modulo... Hai... Hai modificato il modulo... Il modulo whitelist, giusto? Ehm... Praticamente sì, ho corretto quello che... Ah, ok. Però il linksteam devi metterci anche qui quello tuo nel modulo whitelist. Ok, sì, sì. Mi faccio subito. Ehm... Scusami eh. Scusami eh. Non ti preoccupare. Eccolo qua. Ok. Allora. 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 Intanto... Il background è... È corto. Dovresti ampliarlo un po'. No. Scusami. Perdonatemi. Babadrillo, per fare la whitelist di gruppo devi... Dovessi ampliare un po' i background. 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 Cioè, dovessi essere 10-15 persone. In due, in tre non facciamo whitelist di gruppo. Va bene. Va bene? Allora, quando... In la sezione background in alto a destra... I messaggi attaccati. Trovi scritto come sistemarlo e di quanti caratteri deve essere. Scrivi tutte le informazioni che ti servono lì. Di duemila, comunque, mi sa. Non sono duemila. No, no. No, no. Adesso, guarda. Ricontrollo. Vabbè, ragazzi. Vedete voi, dai, comunque. Non so. Ah, è di mille e cinque. Ci manca ancora un po'. Ok. Va bene. Va bene. Ora, appena è, puoi ritornare in attesa. Va bene. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ragazzi. Buona tranquillità. Allora. Non si vuole chi era più tanto. Eh... Oddio, mi ero scritto in privato un attimo adesso. Ah. All'attimo. Se no, mi hanno letto e via. Non voglio leggere ora. Eh... Bene, allora. C'ho male al piede. Comunque... Eh... Cosa mi dici? Eh, hai ragione. Sì, sì. Sì, 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 sì. Esatto, sì. Eh... 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 A posto. Le facevo. Guardate l'esito assistenza, Dani. Gli ho dati 61 esiti, c'ho. Eh... E richiede a banno, c'ho 751 risultati. Vabbè, richiami in banno. Allora, richiami in banno. Sai come funziona? Questo è atteso in assistenza. C'ha 700 risultati di x persone atteso in assistenza. Vabbè, fragolino. Quando arrivi ad avere 1927 risultati, rimanate guai e adesso poi ne riparliamo, dai. Ah, sai in menzioni o in da? Sono in da. Perché menzioni sopra di tu. In da. In da? Vediamo. Vediamo, vediamo. Da lì che tu ne hai... Ops, solamente 1600 e meno di me. In rimandati whitelist. Oiii! Ah, Luca! Grazie per il Prime! Eh... No, grazie per il Prime! Oggi si fattura. Oggi si fattura. No, no. Grazie per il Prime! Ah, beh. Sarebbe Luca, ma sei mio amico, quindi lo conosco, grazie. Ah, sto barba. Ma se la cena ti offro da me. Ah, sto Chris non può fare la whitelist perché l'account di Discord è creato due giorni fa. Vediamo poi se è scritto qualcosa. No, non può farlo. Adesso lo sposto. Ciao Chris. Ciao Chris. Mi senti? Sì. Come va? Tutto bene. Allora, questo è il tuo Discord principale? Ehm... In teoria no. Perché praticamente ho cambiato account Discord. Ok. Mica poi potrei tornare un culo vecchio? Ehm... No, comunque... Ero... Aspetta, se puoi cercarmi ero... Ehm... 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 Il tuo ruolo è creato due giorni fa? Lo so... Eh... No, però quello principale... Eh, ma dovresti tornare con quello principale? Eh, ma no, ho perso tutto quanto. Eh... Allora devi aspettare questo faccio un mese. Beh, va tanto la stessa persona... Ehm... Ehm... ok devi aspettare che il tuo disco faccia un mese il tuo Steam invece? il tuo Steam invece non lo vuoi? no 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 ok più di due mesi uno o due mesi sicuri sapete avere anche 100 ore di gioco quindi vedi sta faxor che le mosina le sub e allora aspetta questo mese e poi ripresentati peccato va bene vediamo ciao chris ciao grazie ciao ci sta faxor che sta remonisirando le sub in chat mamma mia ma come? ma mamma no dalik regalami la sub a faxor dai che cazzo che che fatti pagare faxor è le mosine è le mosine sa le mosine dalik giftami la sub col cazzo e niente allora ci sta sorkbran on twitch che non ha scritto niente quindi attento muta la live c'ho paura ma no ma non ci ora basta dissociarti non c'è più bisogno no no che ora mi dissocio ora basta mi dissocio quindi se io dico ma quindi sei un no no sposto raga non trullate vai vai ciao on twitch diciamo che comunque è mutuo la live perché sono sono prevengo invece di curare io preferisco preferisco prevenire che curare le n word o le cose del mondo 12 anni allora scusa non sai che sei un po' piccolo per l'impero whitelista piccolino non sai che sei un po' piccolino per l'impero whitelista ma no sì mi sei ciao ciao ti senti sì ma sai che sei un po' piccolino per l'impero whitelista sì quanti anni hai 12 hai detto comunque se vuoi giocare su impero puoi provare su impero no whitelista lì puoi giocare tranquillamente anche da 12 anni senza esperienze lp e da 0 per imparare a giocare su favor mrp cioè volendo quindi se vuoi puoi andare tranquillamente su impero no whitelist ce l'hai già link del discord ce l'hai già lo conosci già ok ok lo conosci già il discord impero no whitelista no 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 lo cerco se vuoi te lo passo io te lo passiamo noi qualcuno glielo passa dai passo io te lo passo io dai un attimo comunque ci vediamo ok ok ciao 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 spostata la whitelist concluse ho mutato a tratti perché avevo un po' di paura comunque ma come non serve ho mutato a tratti perfetto dai allora allora barba 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 e capelli barba e capelli siamo in live da 1 ora e 16 minca 1 ora e 5 meno 10 5 e un quarto mi sa che stacco vado a farmi un bagno in piscina comunque ma te hai lo stream deck no 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 lo stream deck magari non sei è povero no no non sei un vero pagura vado a farmi un bagno in piscina al mare giù in giardino io abito a 4 ore dal mare cazzo volete comunque è vero i tuoi abiti in montagna vado a farmi un bagno in piscina a questa tua casa nel senso easy vado giù via torno su molto full ciao rocks grazie ci vediamo tanto paxter invece devi molestinarle le sub fa la tua sub dai su vuoi vedere il mio conto paypal ora te lo faccio vedere aspetta dove fa paypal ok non sono un bot ah no ah no a sparare si ma questo fragolino fake ma perché ti chiami di incontrare su twitch no guarda perché ti chiami di incontrare fragolino io non guardo il tuo paypal condivisione schermo in live sinceramente che mi interessa c'è 195 euro sì sì 155 euro tenghi in euro no un euro ce l'ho un euro ce l'ho vai che costi della sub comprare va te a comprare scendo vai ma tu che tu che sei gentile l'emosina la sub cioè ci sta fax che stai l'emosinando la ragazza la fra la twitch mi ha appena pagato 60 euro a caso perfetto ci sta perché la perché in stream mi ha mandato il resoconto della stream anche se non l'ho finita vabbè comunque se ne ha qualche problema grazie per il follo tx cano ma il nome è normale non ce l'avete tx cn tamivez tamivez grazie per il follo io ho fatto ha fatto ispezione che va adesso ah sì ho fatto ispezione su paypal si stanno accusando di fare ispezione ci si è modificato l'estero ok guarda guarda io non guardo io non guardo i tuoi paypal in live non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente beh guarda gli ultimi pagamenti impero sì però eh questo è strong questo è strong ha cacciato i soldi da staffer questo è strong ma se Twitch è veramente pagato bravo non si dice queste cose in live lo sai gli ho preso 20 euro comunque non parliamo dei soldi in live grazie perché non vorrei che qualcuno si lamentasse qua che è sempre subito l'angolo quello che segnala e andiamo avanti ma ti ha segnalato chi vuole ho segnalato io l'ho fatta apposta per segnalarvi chi vuole spostare barba e safron no io muoio dati a un gelato ehi alle 5 ragazzi chi vuole fare la guai addio dai danni fala tu no no io non faccio ma fa qualcosa subito da solo io non la faccio da solo mica da solo vai ci siamo noi fax la fai tu dai ti diamo la manina si fax non c'ha proprio voglia di fare una whitelist oggi l'ultima whitelist che l'ha fatta fax qualche giorno fa 3.0 sai che non so neanche 0 staff nel 3.0 forse si ancora helper vai vai so dai marco repicazio per il foro benvenuto mi dicono che sono troppo gentile con le domande gentile pesanti le domande che mi chiedono in chat spesso non so le risposte perché magari chiedono domande un po' strane però meno male la bombosica strane vivo quanti criminali nelle azioni prerum la mia domanda sul power game è fammi 5 esempi power game senza l'utilizzo di veicoli dispositivi corpi inventario e altri comunque intanto ne approfitto per dirvi che se volete guardare le repliche delle mie live potete fare punto sclamativo yt per iscrivervi al canale youtube no devi aprire il vod devi togliere questa roba quindi mi raccomando potete andare a fare punto sclamativo yt in chat volete iscrivervi al canale youtube vedete le repliche tutte le white list che faccio in live per chi interessa parlo i miei follower non parlo a te fax te non mi interessa il cazzo anche io sono un tuo follower se posso andare esatto anche io sono un tuo follower mi stai discriminando solo perché sono qui in vocale con te quindi tu discrimini la gente che si trova in vocale con te mi stai dicendo mamma mia che rompi i coglioni che sei lei è un vocalizzato ragazzi bagniamo fax dal canale facciamo una votazione ragazzi aspetta che vado a votare di sì come farò a stare senza il mio streamer preferito non ci stanno i sondaggi come si fanno i sondaggi non so non so neanche come si fa aspetta ma che ci stanno ben faxor ti sto per bannare dal canale ah quello lo sai fare slash ban vediamo se si può fare eccolo qua sì ban faxor sir faxor ho più da qua un attimo sono sparito non sai cosa devi fare non sai cosa devi fare lo banni brutto mettiamo motivazioni rompi coglioni perfetto cosa fai lo banni e poi apri le richieste e un ban così ti scrive esatto e ti crei content ecco qua l'ho bannato quando sono forti bannato no sei stato bannato dalla chat aia perché rompi potete spostare che voglio sentire le uelle no adesso vogliamo un attimo se faxor vuole fare una white sai cavolo fai questa una white c'è ema 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 back to torno al passato grande ema ci è già offerto ci è offerto il tuo lavoro faxor ci è offerto ema l'hai sentito no ha detto palesemente sì io ci sono fai la richiesta di ammissione faxor ma banni sir faxor per darti conto ho già bannato sir faxor ah no ma il buono da serve bravo io non posso più bannare le persone da serve una volta potevo hai perso i poteri hai perso i poteri da moderato annaccio non sai come come si chiama no no io ci nazareno che c'ha la chiave e banni banna tutti lui ha la chiave nazarena chiave perché naza nazabusa dei poteri no stai dichiarando che nazabusa è un abuser il secondo pg il mio secondo pg si chiama nazareno cavalieri nazareno cavalieri ma chi abdu allora ragazzi c'è la tese warntis che scoppia se non volete sentirvi parole ma io lo dico anche per voi altri nel senso intendiamoci comunque se vengono a fare i warntis facciamole bene se no aspetta capo posso dire qualcuno può sì ma faccia il suo lavoro da moderatore perché non sento più nessuno eh fatti scusate scusate qualcuno dai allora signori signori chi ci spostiamo chi ci spostiamo barba no barba o barba o roma o santo beh barba dai pensiamo barba barba stendendo da me vorrei ascoltarsi live però tu mi devi sbannare fai la richiesta ma perché devo fare la richiesta come si fa non posso fare la richiesta certo ma come si fa sul mio penale chiedi potrei effettuare una richiesta alle 17.10 grazie gentile allora barba mettiamo sirfax oh finalmente ora posso andare ciao va bene ciao allora menzioni sapron 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 menzioni non ha mai fatto la whiteris il signor barba però l'ha fatta allora facciamo prima non ha mai fatto la whiteris quindi però quindi mettiamo il ruolo rimandato al signor barba età 17 anni se ripita due mesi l'ultima whiteris facciamo così vi devo staccare io eh sì guarda un attimo qua se c'è qualcosa che non qualche incongruenza e poi possiamo andare va bene va bene andiamo terminologia esatto ciao safron ciao ecco ciao 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 buonasera buonasera fai il ripita quanto? 4 mesi più o meno 4 mesi sono in live su youtube è un problema se facciamo la whiteris no sono in live su youtube su twitch sono in live su youtube minchia sono fuso rimasto nel 2015 però ora siamo in live su facebook va bene dai continuiamo vai va bene va bene va bene allora ascolta vabbè è un problema per te se il signor danni è live no ok ok va bene hai stato il regolamento? sì da 1 a 10 quanto? credo abbastanza 6 a 7 credo spero allora verifichiamo hai qualche dubbio sul regolamento prima di partire? forse un po' su quello delle gang e basta cosa in particolare resident sì vari resident baby gang queste cose qua però più o meno l'ho capito solo solo? tipo resident che si divide in affiliato e resident cioè più o meno però non è una parte fondamentale a meno che tu non voglia rollare gangster eh sì in realtà può rollare gangster? sì sì ok allora spiegami bene qual è la parte precisa che te lo spiego no praticamente i resident sono persone che abitano all'interno del ghetto ma non sono gangster e veri e proprio diciamo gang member non soltanto residenti i resident sono quei player che decino di rollare un rp civile ma nel south side nel senso che non si devono attingere completamente al regolamento gang in quanto non sono effettivamente gangster ma vivono nei paraggi nei ghetti quindi persone povere che vivono nel ghetto perché comunque non che vivono solo quindi che però non ne fanno parte non fanno parte ok allora quindi tu mi hai detto che vuoi andare a fare il gangster giusto in rp sì ok allora partiamo dalle regole basi il power game sai cos'è? sì power game sono praticamente abusare delle meccaniche di gioco per esempio trasportare per esempio troppo cibo oppure tipo salire con l'esempio più banale salire con un'auto sportiva su una montagna oppure stare con un ferito in braccio e tipo correre saltare arrampicarsi eccetera se invece io ti parlassi di power game però senza l'utilizzo di comandi e stare camminare scalzi per esempio anche sulle siepi e queste cose qua va bene allora ascolta il metagame cos'è? e quanti esistono? c'è il metagame che per esempio delle live che vedi una persona in live allora sarebbe lo stream sniping che vedi una persona in live che ne so che sta tipo in un locale tu è là magari a salutarlo qualcosa è quello oppure se ci sta il metagame c che conoscerebbe niente tipo una persona mascherata dalla voce o qualcosa ok aspetta in che senso riconoscere una persona dalla voce e tu riconosci che quella persona è quel pg quando è mascherato si ok allora mi hai detto metagame c stream sniping basta esistono altri tipi che tu conosca anche se anche se sbagli prova a dir se li conosci vabbè se non li sai timidi no andiamo avanti no ok c'è c'è il fatetico metagame oc ok che tipo ti danno un'informazione su discord e tu vai per esempio mi stanno rapendo e tu vai là facendo metagame esatto esatto colorati dal civico e tu non lo conoscevi o non ti è venuto in mente no non mi è venuto in mente c'era ok va bene ne conosci altri i c oc e stream sniping te ne vengono in mente altri ma vento no ok va bene allora andiamo avanti il vdm e l'rdm cosa sono e qual è l'acronimo cosa significa random death rdm che sarebbe uccidere una persona senza una motivazione in rp e il vdm sarebbe veicol death ma ci sarei investire una persona tipo senza una motivazione per esempio tipo lo investi e non ti fermi e te ne vai ok va bene in caso tu facessi vdm no accidentale cosa faresti tu come persona eh tipo mi fermerei per vedere come sta la persona mettiamo in caso che la persona sia a terra svenuta cosa faresti eh chiamo un medico comunque per vedere le sue condizioni verificare le sue condizioni ok va bene quindi praticamente lo aiuteresti e aspetteresti lì fino a che non si rialzi sì comunque è un incidente diciamo ok va bene allora il mixed chat mixed chat confondere la chat tc no c cioè la chat tc e la chat c cosa? eh confondere la chat tc e la chat c ok mi fai degli esempi tipo un esempio in cui io magari scrivo un messaggio in chat che è una chat tc ma che scrivo un messaggio della chat tc quale potrebbe essere? secondo magari anche le tue esperienze che hai passato in rp eh allora tc potrebbe essere tipo vieni qui tipo questo civico oppure questo locale o qualcosa in che chat lo scriveresti? e dimmi se un esempio di mixed chat che scrivi da o c ai c o dai c e uc vabbè ci siamo intesi eh questo qua lo scriverei in chat tc ovviamente aspetta cosa scriveresti in chat tc ripeti scusa un amico lo vuoi lo vuoi invitare in questo locale qua e quello lo scrivi in chat tc eh ok questo è mix chat eh se ci vuoi io dico il civico in chat tc e lui viene a quel civico quello è mix chat ok invece al contrario un esempio in cui tu scrivi in una chat tc tipo vieni su discord ok un esempio di una chat tc quale potrebbe essere in che senso una varia sai no che ci sono chat tc e chat tc no come mi hai detto adesso un esempio di chat tc che tu conosci perché un conto è capire quale è una chat tc e quale una chat tc perché alla fine tu se sbagli e non ne sei consapevole perché non sai che quella è una chat tc magari un messaggio in ic capisci bene che se non ti viene in mente dimmelo no no vabbè tipo i messaggi del telefono una chat tc eh sì ok ok va bene allora i membri delle fazioni in azione quanti quanti sono il numero delle fazioni persone in azione fazioni in buca cioè arrivando in fazioni no no quanti membri per la fazione dico no non ho capito quanti membri per fazione possono partecipare in azione numero di criminali che non ha azione illegale 10 e poliziotti 14 che tipi di armi si possono usare in azione per un pistola ok i cast si possono usare no in nessun caso in assalti per esempio azioni free room non credo in nessun caso in free room in realtà sì ci sono dei casi che in realtà ci sono dei casi ovvero quando sei una testa una fazione fa parte di una delle teste può usare azioni può usare armi illegali contro la polizia in azione nel server di conseguenza la polizia può rispondere con armi automatiche qualora venisse attaccata con armi automatiche che per i criminali invece funge in modo un po' diverso un po' complicato se non lo sai poi di tutto di passare comunque sul regolamento e chi sono le fazioni neutre medici solo sì no anche concessionario e armeria perché queste ultime due perché aggiungiamo perché è essenziale che queste due siano neutre come fazioni cosa si andrebbe a creare se non lo fossero è tipo se venissero rapiti diciamo che forse sì forse sì risci pure la frase impossibile capire eh tipo non ci sarebbe un medico in quel momento in servizio stiamo parlando delle ultime due dell'almaiolo e del concessionario per quanto riguarda la neutralità del medico è base però penso in ogni server del mondo il medico penso sia neutrale ho visto forse un server in cui il medico non era neutrale sì se ne esistono vabbè andiamo avanti se non lo sai e le zone safe quali sono? l'ospedale negozio di vestiti tipo il parrucchiere negozio di tatuaggi e le zone semi safe esatto quali sono e perché vengono chiamate così? centrale delle polizie e locali perché perché tipo i locali tramite ticket puoi tipo rapire il direttore tipo se ti ha fatto qualcosa non so io per rapire il direttore apro il ticket solo se devo rapire il direttore giusto? dipendente di una fazione legale può compiere azioni illegali? illegali? di servizio sì e un titolare invece può compiere azioni illegali? un titolare sarebbe il titolare il capo di un locale può compiere azioni illegali? credo di sì credi o sì? sì è diverso sì ok si possono rapinare i lavoratori no white a distra? né quando né quando lavorano né quando stanno per andare all'import né mentre diciamo mettono i soldi in banco tu mi hai detto che volevi fare il gangster no? sì due ghetti no? due gang per assaltarsi hanno bisogno di aprire un ticket? eh? no c'è qualche situazione in cui si devono trovare precisa? devono esserci dei fattori? sì quali? che non sia tipo che ne so quel ghetto ma sparato oppure quello ma qualcosa di più qualcosa di più cosa? di più grave tipo un gang c'è una gang che ha ucciso un membro di un'altra gang per esempio definitivamente però ci deve essere una questione come posso dirti senza dircelo una guerra dimmi ok esatto devono essere in guerra i tuoi ghetti per scatenare una guerra tu e ghetti hanno bisogno di autorizzazione dello staff? porco scusate no no non credo cioè no no? quindi io vado da esempio io ballas vado dai families dico da oggi siamo in guerra in rp lo dovrebbero sì però di essere autorizzato o no? cioè prima di farla la cosa io magari apro un ticket e scrivo le motivazioni e dico sì lo staff mi dice sì ok e io il giorno dopo prendo vado in rp e glielo dico ok cioè dici prima apri il ticket e poi fai la scena in rp è una domanda cioè devo far così o posso fare un tricoletamento in rp e credo no credo prima il ticket e poi vai cioè dovrebbe essere prima il ticket e poi vai in rp a fare la scena una mafia quando assalta una gang ok nel caso i mafiosi muoiano all'interno del ghetto o fuori dal ghetto comunque nei pressi però l'azione viene vinta dai mafiosi è perma no non ho capito se una mafia assalta una gang ma membri della mafia muoiono però l'azione viene vinta dalla mafia è perma per i membri della mafia morti sì anche se hanno vinto no se hanno vinto no ok ti faccio l'ultima domanda comunque non è così eh muoio faccio l'ultima domanda il drive by cos'è è praticamente che i gangster c'è quattro gangster tipo si mettono nella macchina e vanno a sparare stesso con la macchina in movimento e un altro ok ma deve essere approvata come cosa no 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 qualsiasi gangster in che senso qualsiasi gangster qualsiasi gangster può farlo eh sì i resident no ok safro un attimuto ci ti valutiamo un attimo allora il regolamento gang lo sa a tratti cioè un po' simbol no il regolamento base diciamo che lo sa per il 90% ok però il regolamento di impero lo sa veramente poco quindi diciamo che possiamo rimandarlo per ripassare questo sul regolamento impero si ok vai allora procedi pure scrivo io sì sì certo d'accordo aspetta che primo scrivo ah intanto io lo stacco bene ragazzi allora io innanzitutto vi ringrazio per essere stati qui con me vi ringrazio ringrazio tantissimo Pitbull per i pit per le sub ringrazio Avel per il nuovo della subprime ringrazio tutti quanti per la sub e per il follow che avete dato venendo appunto dopo l'incursione di in gioco e mezzogiorno vi ringrazio tanto per stati qui con me mi trovate diciamo insomma un'altra volta in live penso martedì sera con i processi fate appunto schermativo comandi per vedere tutti i comandi disponibili punto schermativo yt per iscrivervi al mio canale youtube ragazzi così potete vedere tutte le repliche lì vi ringrazio tanto per stati con me e vi lascio da ninja quindi ricambio anche se è un numero minore vi lascio da ninja così contento di seguire impero grazie a tutti e buona serata ciao grazie a tutti grazie a tutti